Prende ora la parola il professor Lamberto Maffei, presidente dell'Accademia Nazionale dell'Incei e il titolo del suo intervento è Educare il cervello. Buonasera, io tanto voglio cominciare ringraziando il professor Sironi e il professor Clementi che ci hanno accolto in questa bella sede e hanno messo tanta efficienza nell'organizzare questa riunione. Ora, indubbiamente le parole che ci ha detto la dottoressa Stellacci sono musica per le mie orecchie. Noi speriamo molto, appunto, senza il ministero questa iniziativa fallisce. Questo noi l'abbiamo chiaro, sia perché lo vediamo come logica dell'iniziativa e sia perché ci abbiamo anche sbattuto la testa, diciamo. La collaborazione col ministero, devo dire, è migliorata mano a mano. Il ministero ci crede in questa iniziativa. Ora poi bisogna anche crederci in maniera fattuale, diciamo. Però senza di loro noi non possiamo fare niente. Quindi le sue parole per noi sono musica. Noi ci speriamo molto, ecco, che non restino parole. Diceva, c'è un cito, diciamo così tanto, per alleviare il discorso. La parola è surs de malantandu, diceva, si dice nel piccolo principe. Ecco, le parole poi si devono riorganizzare. Noi ci abbiamo messo il primo calcio, diciamo, il calcio di inizio. Ora ci vuole l'organizzazione, proprio come dice lei, l'organizzazione. Noi ci avevamo l'entusiasmo, il volontariato. Tutto viene fatto spontaneamente. Ci sono stati dei professori che hanno detto, io vorrei partecipare a questo. Questo è il tono, diciamo, la motivazione che c'è sotto questo. Che è molto confortante. A livello dei lincei hanno forze molto limitate. Hanno forze limitate e occorre in qualche modo anche per noi riorganizzarci, se i soci ci credono. Per ora tutti i soci che partecipano ci credono moltissimo. E altri ancora forse non sanno neanche di questa iniziativa, perché ci sono molti soci che vanno per le loro strade, diciamo, di interesse, di cultura. Ma noi ci proponiamo appunto di estenderle. Cosa posso dire io, oltre che ringraziare? Mi ero proposto, ma cercherò di essere brevissimo, di dirvi qualche cosa sul cervello, anche perché è l'unica cosa che forse posso dire qualche cosa. Nel senso di cosa significa educare il cervello. Vi porto un po' fuori del discorso fino ad ora. Forse sarà più informazione che discussione. Io ritengo questo, di dirvi, perché è importante sapere dove l'educazione va. Ci sono queste cose che i mestieranti, diciamo come me, poi sentono che il bisogno di dire, ecco, bisogna fare questo, perché questo va in fondo sul cervello. Cosa posso dire? Il cervello, vedete, è come New York, diciamo, come Shanghai, il risposto è Shanghai. Una città sempre attiva. 24 ore su 24 ore, ecco. Ci troviamo di fronte a questa macchina sempre attiva. Se uno, diciamo, come noi, diciamo, in questo caso come me, misurasse gli eventi elettrici, nervosi, che sono nel cervello, a riposo, oppure, diciamo, in piena attività, le differenze sono minime. C'è quindi un'attività di base che, in fondo, è quella che conta. A cosa serve questa attività di base? In realtà, nessuno lo sa. Si pensa che serve alla produzione di ormoni, alla produzione di mediatori chimici, ma è sempre questa città attiva. Anzi, se si può dire qualche cosa, diciamo, che per il pensiero di un matematico, questa distribuzione di eventi è caotica. Caotica nel senso più preciso della parola, perché l'evento, diciamo, A non è collegato con quello che segue e con quello che precede. Insomma, in termini, diciamo, più precisi, si potrebbe dire che si avvicina, non del tutto, ma si avvicina a una poissoniana. Sono eventi discreti che, quando sono completamente a caso, che è un limite, perché a caso, a caso, ce ne sono poche di distribuzioni, vanno create, diciamo, si avvicinano a una poissoniana. Quindi, cosa conta nel cervello? Forse ho delle immagini qui. Devo fare io. Scusate, ho delle immagini che sono un po'... Mi serviranno. Non è che siano molto importanti, ma... A cosa serve, appunto? Come si può ragionare? Io ragiono in questa maniera. Cosa succede quando noi diamo, diciamo, a una persona, un animale, un pizzicotto? Un pizzicotto è uno stimolo luminoso, uno stimolo uditivo. Succede qualche cosa nel cervello di ben preciso, che questa scarica caotica improvvisamente si organizza e mostro delle attività diverse, insomma. Ci sono proprio come uno scoppio, come un fulmine, l'attività aumenta. Quello è il punto principale dell'informazione nervosa. E allora, diciamo, lo stimolo che anche noi, diciamo, mi ci metto anch'io, come educatori dobbiamo dare, è a livello di quello stimolo lì. Cioè, più lo stimolo è efficace e più sarà efficace il ritorno a livello cerebrale. Vi sono degli stimoli nel cervello che transitori, che passano, uno dice una cosa all'altro, poi si dimentica. Ed è quasi un'economia questa, perché altrimenti forse la memoria sarebbe ingolfata. Però ci sono invece degli stimoli che, se ripetuti, collegati con qualche cosa di fondamentale, diciamo, o di emotivo, vengano trasformati, diciamo, in struttura, in funzione, permanente o quasi permanente. Uno, come un educatore, che parla, diciamo, quando parla in maniera, diciamo, adeguata, perché tanto educare è un po' rientra come nel medico, diciamo, nell'amare. Se non ce la metti tutta, il messaggio non passa, ecco. Quindi, in questo nostro progetto c'è anche questa parola, diciamo, che forse suona retorica, ma è proprio quello, se non ci impegniamo, la nozione deve essere accompagnata dall'emozione. Perché così è fatto il cervello, se no, non resta. Nessuno penserebbe di noi, diciamo, ma io ve lo dico per esperienza, che magari se uno dà questo tipo di informazione nella maniera adeguata, va a sfrugolare, chi ci penserebbe? Il DNA. E non c'è altra maniera, perché se non avviene questi processi, diciamo, che poi portano alla sintesi delle proteine, non c'è nessuna maniera perché la nozione sia ritenuta. Bisogna andare a sfrugolare nel DNA. E per sfrugolare nel DNA bisogna essere abili. Vi voglio ricordare la storia delle Maddalene, di Proust, quando lui esce dalla chiesa e poi zuppa questi biscotti nel tè della zia, Leonie, e allora ricorda, ricorda, ricorda. C'è sempre qualche cosa di collegato per cui la nozione ritorna, l'emozione. Ecco, questo è importante. Ecco, io ho qui, sono venute queste immagini, ne faccio, insomma, tanto per intrattenervi. Ci sono questi tre animali, diciamo, ecco. No. Ecco, vedete, qui ho riportato il colore di questi tre animali e un po' così, diciamo, centralmente c'è quello del serpente, poi c'è il grigiastro del gatto e poi la corteccia, diciamo, dell'uomo. per dirvi che, insomma, il cervello è fatto di queste strutture, delle strutture basali, come sono quelle del tronco, dell'encefalo, che sono un fondo di tutti gli animali, ce li portiamo, è il cervello, come dice la Levi Montalcini, del serpente che ci portiamo dentro. Basta andare lì con un aghino, toccare lì, morte. Quindi questa è la sopravvivenza, è il cervello più importante. Poi c'è il cervello, quel grigiore lì, che è il cervello dei piccoli mammiferi, come il cane, il gatto, è il cervello dell'emozione. Questo è un cervello che noi ci portiamo dietro, in varie forme, capite, ma insomma, grossomodo siamo lì, quando si passa da questi mammiferi a noi, vanno le differenze, bisogna cercarle col microscopio, diciamo. E poi c'è il mantello della corteccia, e il mantello della corteccia un po' in noi è più, diciamo, sviluppato, ma non molto, non molto. Ecco, qui c'è proprio come è sviluppato di più, vedete, nella corteccia frontale di cui noi ci facciamo tanto, diciamo, prosopopea, vedete che in fondo si passa da, rispetto a un riferimento di iniziale, dal 17, che credo sia il ratto, del 17% di più nello scimpanse, che è il mammifero, a un 29% di più nell'uomo. Insomma, sono numeri, ma fattore 2, fattore 3, non ci si muove molto, ecco. Questi tre cervelli, non è che ve li ho presentati così tanto per ornare il discorso, ma quanto per dirvi che vanno nell'insegnamento usati. Il primo è la sopravvivenza, la pazienza, ma gli altri, l'emozione va proprio usata. Vedete che il cervello, e qui si vede perché noi pensiamo ai bambini, ai ragazzi, diciamo, il cervello cresce a 5 anni, è finito. E poi il corpo cresce di più, ma il cervello, vedete, a 5 anni, grossomodo il cervello. I neuroni sono quelli, non aumentano, non diminuiscono. cosa succede allora, perché aumenta? Succedono delle cose che è lì che noi lavoriamo, diciamo, cosa succede quando noi insegniamo, insomma, può essere divertente, ma succede questo. Guardate, questo è durante lo sviluppo, il neurono è sempre uguale, però aumenta questo albero che c'è intorno. Guardate come aumenta nello sviluppo, è quello che aumenta. sono le connessioni fra neurone e neurone, le sinapse, diciamo, è lì che si svolge, diciamo, l'educazione, l'ambiente, quello che io chiamo l'ambiente, è lì che noi dobbiamo agire. Cosa succede lì? Che si aumentano? Si può fare degli esperimenti, io li ho fatti, ecco, che si può andare sulla corteccia di un mammifero, diciamo, e guardarlo mentre magari gli diamo dei lampi di luce ripetuti oppure uno stimolo ripetuto e si vede queste sinapsi, una cosa meravigliosa da mettersi a piangere, che si muovono, si muovono e poi cambiano posizione, state cambiando il cervello con uno stimolo per dire cosa si fa a noi quando si educa, quando si educa opportunamente, perché lo stimolo deve essere efficace. in fisiologia, io sono un fisiologo, si parla di stimolo adeguato, ecco, quindi l'educatore deve cercare lo stimolo adeguato. Nella vecchiaia purtroppo non è il numero di neuroni che scompare, ne scompare con la patologia qualcuno, ma non è quello, l'evento tragico, scompare l'albero, si ritorna indietro, da questo qui si ritorna indietro, questa è la vecchiaia. Vedete qui, ecco, questa è una cosa che insomma forse tutti sanno, poi che certamente molti di voi lo sanno, io me ne scuso, sono cose banali, ecco, quelle che dico per gente del mestiere. Le sinapsi, queste cosine di connessione sono che poi sono appunto il neurone e il boss, quello che dà da mangiare, dà gli ormoni, ma là dove avviene la logica del cervello, là dove noi, diciamo, l'educatore o lo stimolo fa delle variazioni, è a livello delle sinapsi, i piccoli pc, diciamo, del cervello, miliardi, 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 sono a livello delle sinapsi, è lì che si decide se il messaggio passa e se il messaggio non passa. Vedete che le sinapsi aumentano dalla nascita, a caso direte voi, belli sforzi, e verso due o tre anni è il picco, poi diminuiscono, diminuiscono e raggiungono un plateau fino all'adolescenza, poi continuano un po' a diminuire, certe parti del cervello sono, diciamo, a plateau, per esempio, mi cito il corpo calloso, che sono altre cose che sono nel cervello, fino a vent'anni anche, quindi siamo in un cervello mobile. ora, si arriva a questo paradosso che un bambino ha grossomodo tre volte le sinapsi di un adulto. Allora, questo sembra così una buttata, so what? ma quindi quando voi vi trovate che faccio sempre questa citazione diciamo più ridicola che importante, quando portate il vostro bambino dal pediatra, il pediatra ha tre volte le sinapsi meno del bambino. Beh, è una buttata, ma non è così banale, perché è lì che il bambino impara, c'è una velocità di formazione del cervello, di educare, è qui, in quest'età, perché c'è più sinapsi, c'è più plasticità, le sinapsi si muovono meglio. C'è stata durante i dieci anni del cervello in America, sotto la presidenza Clinton, soprattutto per opera di Hillary, che era interessata in questo tipo di cose, una riunione fondamentale, tutti i neurologi, gli psicologi, gente che anch'io essendo del mestiere conosco, sono riuniti alla Casa Bianca per tre giorni a discutere come si doveva impostare una nuova psicologia dato che si conosce queste proprietà del cervello, che sono principalmente diciamo tre. Primo, che il cervello ha più sinapsi quando nella gioventù. Secondo, che queste sinapsi si muovono di più, è più facile influenzarle. terzo, che venivano fuori degli esperimenti in cui si osservava che semplicemente cambiando l'ambiente dei ratti la corteccia, quel mantello che è sopra lì, aumentava di spessore. Allora si disse perché non usiamo questo per una nuova pedagogia? E di fatti cominciò una nuova pedagogia. Cominciò principalmente nella Carolina del Nord. Avete sentito senza altro le gettere sulle terze pagine dei giornali, l'effetto Mozart, tutte queste storie che erano un errore, terribile, erano interpretazioni errate, ma questo è vero. Partirono degli asedi kindergarten, pilota, in cui si faceva quindi tre, cinque anni. C'è un libro fantastico scritto da un economista che è intitolato Il miracolo dei primi tre anni, in cui un economista che sapeva anche di queste cose, in cui si dice ecco cosa si deve fare, bisogna stimolare il cervello. Stimolando il cervello facevano proprio questi kindergarten in cui davano particolari diciamo stimoli al cervello e misuravano il quotiente intellettuale con tutto il suo e di fatto migliorava, migliorava moltissimo e durarono per sette otto mesi queste cose qui. Poi vengono pubblicate, alcuni continuano ancora in maniera molto più organizzata. Però poi quando andavano a casa ritornavano a plateau, ci mettevano cinque o sei mesi per ritornare a plateau perché la plasticità era così. Ecco, quindi c'era questo che bisogna quindi educare i giovani perché i giovani sono preparati a imparare perché hanno queste possibilità di base nel cervello. Ecco, lasciamo stare queste cose. Vedete, queste sono queste qui. Sono proprio quello che succede. Vedete, quando date uno stimolo, questi sono stimoli luminosi, succede che ci sono queste scariche. Queste scariche non sono banali perché quando succede queste scariche nel cervello partano catene molecolari, partano produzione di ormoni, parte tutta quell'attività che è la vita del cervello. Un cervello senza stimoli praticamente non esiste perché è un cervello che tende al sonno e se poi si eliminano tutti tende al coma o vicino al coma. Quindi l'ambiente, lo stimolo, un cervello senza stimoli è un cervello che non esiste. Infatti il cervello è una macchina dinamica. Se lo mettete sotto uno stimolo costante lui si annoia terribilmente, il cervello si annoia subito. Infatti i vestiti non si sentono, gli anelli non si sentono, forse non si sentono neanche i ganci che si vedono al naso perché si annoia. Se lo stimolo è quello lì il cervello lo ignora. Lo ignora e allora bisogna aiutare il cervello alle variazioni diciamo. Il cervello nel linguaggio si parlava prima della matematica vede le derivate le costanti le taglia taglia anche la luce la luce costante la taglia in gran parte la taglia vede solo le variazioni diciamo del sole della luce che noi vediamo. Se voi pensate diciamo ci sono degli esperimenti che si possono fare sono divertenti ma rientrano nella nostra cultura che se voi fermate l'occhio con qualche trucco oppure con i farmaci ma la stiamo a stare i farmaci ma ci riesce dopo un po' siete ciechi non lo vedete l'occhio se non si muove cieco e quindi per dire che il cervello è una macchina dinamica che pensa alle variazioni il costante lo trascura forse è un fenomeno come direbbero i nostri economisti di buonsenso insomma ecco bene qui ho scritto per ricordarmelo che educare significa dare la valenza emotiva significa interessare quella parte del cervello che è fra mezzo quella tanto per intendersi del cane del gatto che ci portiamo dietro perché è così voi una cosa la dimenticate ma se diciamo avete visto qualche cosa durante un funerale di un parente quella la ricordate cioè deve essere collegata a qualche cosa si parlava prima delle Maddalene di Prost oppure non so qualche cosa collegato in gioventù o in incontro quella la ricordate quindi la nozione va accompagnata da quello che io dico il petting della nozione una una cosa che poi come detto quando è così in questo tipo di efficacia quando la scarica è molto alta e ripetuta si va nel DNA come si va nel DNA quello che sappiamo ora forse il professor Tironi si va nelle acetilazioni nelle demetilazioni in questo tipo che ci dicono guardate qui stiamo andando sul DNA e sul DNA significa aprire poi certi certi siti che vanno diciamo poi sui geni i geni della plasticità eccetera quindi non stiamo quando insegniamo stiamo andando nel DNA ecco se vogliamo che la nozione resti stiamo andando nel DNA quindi il tuo stimolo efficace ecco si parlava prima qual è il nostro scopo la matematica l'esperimento l'italiano diciamo secondo me tutto è buono basta insegnare a ragionare perché è importante insegnare a ragionare perché viviamo in un mondo dove siamo diciamo bombardati da parole inutili spesso che ci ingannano e perché? perché pensiamo alla televisione perché perché non siamo abituati a ragionare noi dobbiamo insegnare ai nostri figli nipoti a ragionare ad essere guarda che questo qui forse non è così dubito ergo sum insomma invece che cogito perché se non dubiti di tutto non sei all'erte che cittadino sei ecco noi dobbiamo il nostro scopo è il cittadino che ragiona che è critico e dice no tu hai torto ecco in un mondo che tende a omologarsi finisco subito vedete pensavo che dicevo che il giovane vado subito tu mi devi fermare se no io vado via fino a domani sera c'è in tutti gli animali anche nell'uomo c'è un periodo di altissima plasticità che è vicino alla vita quella dove sulle sinapsi sono di più e che in ogni animale è diverso che significa altissima plasticità tutto quello che noi sappiamo a parte l'apprendimento ma vi do delle cose patologiche insomma se voi diciamo ci avete io sono nella visione se voi chiudete l'occhio a un bambino di un anno questo diventa ambliope perde la vista se voi lo dovete recuperare lo portate dall'oftalmolo fino a due o tre anni facendo chiudendo un occhio prendo quell'altro come si usa fare la vista ritorna perché siamo nel periodo se lo fate dopo sette o otto anni non torna più perché è finita la plasticità o quasi finita la plasticità per dirvi che non sono cose di discorsi se voi avete una cataratta congenita la cataratta congenita è un'opacità del cristallino come sia nell'anziano ma c'è anche congenita alla nascita c'è questa opacità bene una volta questa opacità si operava verso sette otto anni per questioni dell'anestesia perché l'anestesia ci si lascia il pelo qualche volta ora l'anestesia è più sofisticata si operano nel primo anno quando venivano operati non riprendevano più la vista perché ormai era partito il cervello diciamo il cervello non era più plastico il cervello non era stato abituato agli stimoli luminosi c'era la cataratta e il cervello era sparito il cervello visivo ritornava dopo anni si vedeva prima la luce poi i margini sono tutti descritti queste cose qui e di fatto il soggetto anche da adulto rifiutava la visione e ci sono dei casi ci sono dei casi anche recenti diciamo di opacità della cornea perché ora la cataratta congenita viene operata nel primo anno di vita con risultati buoni nella opacità della cornea invece che il trapianto di cornea più recente il primo caso fu descritto a Cambridge in England dove succedeva questo questo soggetto operato da adulto del trapianto di cornea dopo rifiutò la vista ma la rifiutò così tanto perché era uno stimolo che poi si uccise molti di questi o il rifiutano o si uccidono perché è uno stimolo nuovo il cervello non è preparato insomma è complicato ma è così per dire come alta la plasticità ci sono degli animali in cui la plasticità dura dei mesi nell'uomo dura anni quanto? ma certamente all'adolescenza siamo all'asintoso siamo vicini precisamente è difficile poi dipende da cosa a cosa si parla io mi sono c'è c'è un piccolo filmatino che però indicativo di solito piace alcuni di voi l'hanno già visto me ne scuso però vi dice cosa si può fare sono un cervello ecco io ho semplicemente studiato l'ambiente sugli animali cambiando l'ambiente l'ambiente significa aumentare gli stimoli aumentare quanto camminano tutti corrono ma perché corrono? non c'è mica sotto c'è la medicina perché la medicina c'è la conoscenza perché si producono delle sostanze che poi tutto sommato fanno fanno bene ecco si sa per esempio che la corsa produce un aumento dell'ippocampo nel soggetto normale ecco l'ippocampo è la sede della memoria tanto per dire come l'ambiente influisce poi si arriva ai bambini ecco ora questo ambiente arricchito viene usato io lo uso per esempio in un progetto sull'Alzheimer noi si usa l'ambiente arricchito cioè si arricchisce i pazienti ne parla domani a un congresso di gerontologia ed è una cosa insomma lasciamo stare sempre usando l'ambiente senza la medicina nel senso della droga ecco l'ambiente arricchito cos'è per gli animali? tanti stimoli ruote tubi è inimmaginabile come cambia la vita di questi animali cambia moltissimo diventano più socievoli fra loro va via tutta l'aggressività una cosa importante diciamo quello che nota vado veloce diciamo e si osservano delle variazioni a livello di proprio grossolano dell'elettroencefalogramma della vista importantissime grossolane proprio non occorre il microscopio ecco questi qui sono dettagli tecnici di salto poi mi sono detto ma perché non lo facciamo nei bambini ecco questa cosa perché non proviamo guardate cosa succede nei bambini semplicemente cambiando l'ambiente cosa abbiamo fatto nei bambini per cambiare l'ambiente abbiamo massaggiato cosa abbiamo massaggiato il massaggio è usato sempre nei bambini non l'abbiamo fatto nei prematuri poi ora lo stiamo facendo nei bambini più grandi ma il massaggio perché è uno stimolo uno stimolo produce quelle scariche si diceva siamo in alta plasticità cosa farà mai il massaggio allora il massaggio era semplicemente massaggiare per 10 minuti 3 volte al giorno i bambini basta erano prematuri però 4-5 settimane prima della nascita salto tutte queste cose che si fanno diciamo per fare un esperimento molto complicato estremamente complicato sui bambini per dire ecco questo è l'esperimento è una diciamo una nurse specifica che massaggia i bambini in modo che siano massaggiati tutti uguali eccetera eccetera 3 volte al giorno 10 minuti ecco andiamo a vedere cosa succede succede sono stati massaggiati due settimane due settimane perché i prematuri stanno in ospedale due settimane semplicemente per ragioni così banali cosa succede succede cose che una non se le aspetta ecco gli ormoni questi sono ormoni della crescita aumentano gli ormoni dello stress diminuiscono il cortisolo diminuisce il peso aumenta poi le latenze le latenze sono cose strane quando si dà un lampo di luce si vede una reazione elettrica nel cervello che sono onde diciamo facilmente registrabili basta metterci un affare qui sul cervello sulla testa e la latenza diminuisce di 40 millisecondi dopo questo tipo 40 millisecondi per un fisiolo sono un tempo enorme poi l'IG l'IG cambia l'IG cambia c'è una struttura particolare l'IG nel bambino che poi cambia mano a mano qui cambia velocemente e questo poi è un insomma un tocco di grande lasciatemi dire eleganza due gemelli uno si viene massaggiato e uno no i risultati sono gli stessi poi se abbiamo misurato la vista anche la vista si sviluppa di più pensate la vista si sviluppa di più la vista nei bambini si misura facilmente ci sono dei trucchi diciamo il bambino è una macchinetta se gli mettete una cosa diciamo con una forma lui fa così con gli occhi e se no se è unito non la fate si chiama il preferential looking precisissimo è molto più facile misurare la vista in un bambino di questa età che ha due o tre anni che si muovono e dopo tre mesi quando torna in ospedale è ancora aumentata la vista poi dopo un anno invece torna a Platò ora lo facciamo anche nei bambini nei bambini che invece sono nati a termine e anche lì troviamo delle cose interessantissime soprattutto lo sviluppo lo sviluppo della stereopsi la visione della profondità che avviene diciamo alla fine del terzo mese allora si vede che se sono sottoposti a massaggio ci sono i bambini che hanno la stereopsi e i bambini che non hanno la stereopsi verso la fine dei massaggiati sia una stereopsi quindi un'accelerazione e poi si sta anche lavorando questo però fuori dell'educazione diciamo nel nostro progetto educativo anche nell'adulto nell'anziano io sto lavorando molto nell'Alzheimer con questo tipo di trucchi variando l'ambiente evitando di dare tanto nell'Alzheimer non c'è niente da dare perché niente fa niente quindi usando questo tipo di cose e sembra che aiuti non aiuterà la conozione di matematica ma aiuta la concentrazione nel risolvere il problema quindi il contorno e il contorno lo fa l'insegnante è importantissimo mi fermo qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti